Il Carnevale 2022 di Biella inizierà ufficialmente sabato 12 febbraio e seppur ridotto rispetto al passato proseguirà per l'intero mese con diversi appuntamenti. Il primo vedrà impegnato il gruppo Jiping e Catlin nel centro storico cittadino. Sabato dalle 14 è prevista la passeggiata del gruppo lungo Via Italia e poi alle 15 nella sala consigliare la consegna delle chiavi con la presenza del sindaco Corradino e dell'assessore Gaggino. È prevista un'esibizione della società musicale Giuseppe Verdi sotto i portici all'ingresso di Palazzo Ropa. Venerdì 25 febbraio per i bambini dagli 8 ai 10 anni alle 16.30 l'appuntamento nel Museo del Territorio biellese con il laboratorio didattico dal guerriero al cavaliere. Il Carnevale di Chiavazza aprirà ufficialmente i suoi eventi venerdì 18 febbraio alle ore 17 nella biblioteca con la presentazione del libro 50 anni di Carnevale di Giorgio Gulmini. Venerdì 25 febbraio alle 21 lo spettacolo teatral carnevalesco Cucucuba domenica 27 febbraio alle ore 12.30 il pranzo con la fagiolata. A Biello il Carnevale non si è mai fermato, sottolinea l'assessore alla cultura Massimiliano Gaggino, nemmeno dovendo convivere con la pandemia. La situazione ci ha costretto a limitare le manifestazioni a tema, ma pur ripensato questo Carnevale ci dovrà consentire di lasciarci un po' andare, a qualche piccolo scherzo ritrovare risate, travestimenti e un minimo di allegria. Grazie